Per quanto riguarda il QRA, possiamo dire che l'importante è che noi eravamo quattro piloti con quattro specialisti e montavamo di allarme alle 8 in punto del mattino, 24 ore fino alle 8 del mattino dopo. Poi per altre 24 ore eravamo liberi. Succedeva che essendo quattro piloti, l'ultimo che arrivava alle 8 e 5 trovava già il tavolo con le carte già distribuite e pinacolo a non finire, che si partiva e via. La cosa che può essere interessante, a prescindere dalla bomba e di queste cose, era che noi comunque dovevamo fare dei controlli sull'aereo e anche sulla bomba. Non è tanto dei controlli quanto delle regolazioni, perché la bomba aveva due possibilità per esplodere. Ne aveva anche altre, ma fondamentalmente uno andava giù e aveva un radar o un radioaltimetro e c'era una quota prestabilita a cui doveva esplodere. Se per caso quello non funzionava, c'era un sistema barometrico. Però che cosa succede? Che il sistema barometrico variava in funzione della pressione atmosferica prevista. E quindi, devo dire sinceramente, non mi ricordo se ogni 6 ore o ogni 8 ore, qui onestamente non me lo ricordo, però ogni tante più o meno ore, dovevamo andare alla bomba, avevamo dei regolatori che mettevamo dentro la quota prevista per quella pressione. Episodio simpatico, uno l'ho fatto io, l'ho combinata una grossa, ma grossa, grossa. C'era un giorno di agosto, un caldo becco, noi dovevamo stare vestiti completamente, l'unica cosa ci tiravamo via gli scarponcini, finestra aperta e una sorcona che andava avanti e indietro sul davanzale. Io me la guardo, me la giro, me la guardo, questa non va via. Filo la mano dentro nella tuta, tiro fuori la Walter P.P.K. che avevo, palotola in canna, sicura tolta. Pum! E faccio fuori l'altra. Non l'avessi mai fatto. Un colpo di esplosione dentro il QRA. È successo l'inferno. È arrivato pure il comandante dell'elite, tutti quanti, lì, no, no, soltanto io, non lo farò mai più. Si vede che eravamo tanto indispensabili che non mi hanno neanche punito. Boh. L'altra cosa simpatica, poi il QRA lo lasciamo da parte, era che le bombe ogni 10-15 giorni andavano a rotazione una volta, sostituite per controlli che loro sapevano che dovevano fare. Anche gli aerei ogni tanto venivano messi in moto e sostituiti. Quando era il giorno del convoglio, si diceva, era una tragedia perché loro chiudevano tutto il percorso dal QRA fino al deposito che distava circa un chilometro e mezzo dopo il cancello dell'aeroporto. Tutto il traffico, tutti, nessuno si poteva più muovere anche perché tutta la strada era ogni tanti metri con il personale armato sia italiano che americano per sorvegliare questo convoglio che era dato dalla bomba che veniva e poi prendevano quella vecchia e la riportavano lì. Il tutto durava almeno un'oretta e mezza e dove tu eri chiuso in campo, non potevi assolutamente... Se eri libero, non potevi uscire. Allora, come si fa? Perché era segreto sia il giorno che l'ora, per motivi di sicurezza. Però, segreto in Italia, quando più o meno si prevedeva che dopo qualche giorno poteva esserci il convoglio, bastava andare a Ghedi, al mercato, al mercatino. E con fare sottovoce indifferente lì si chiedeva ma il convoglio quando c'è? Giovedì alle tre e mezza. E infatti a giovedì alle tre e mezza c'era il convoglio. Questa è stata la cosa simpatica. Adesso vorrei parlare per descrivere qual era il nostro addestramento perché abbiamo parlato dello strike però per fare lo strike bisogna essere addestrati. È una questione di addestramento e allenamento. L'addestramento, cosa sa da fare, fare bene e l'allenamento di farlo continuamente, ogni giorno, tutti i giorni anche due volte al giorno perché solo così si mantiene uno standard elevato. Allora, due cose facevamo. La prima, la principale, era la RAT-MIX anche qui sempre sigle. RAT sta per Radar Advoidance Training cioè addestramento per evitare i radar. MIX sta per missione. Quindi la cosa fondamentale per noi era imparare e allora non c'erano vernici antiradar superfici antiradar l'unico modo era andare via bassi approfittare di tutti gli ostacoli che potevano interporsi fra noi e il radar dove sapevamo che stava naturalmente. Bassi cosa significa bassi che adesso proprio è fantascienza. In condizioni normali noi ce le avvestravamo così andavamo sugli 80 piedi circa 23-25 metri 330 nodi questa era la velocità e la tecnica di avvicinamento all'obiettivo però per evitare anche questi radar non andavamo una via una linea retta era tutta una spezzata fra 5 e 7 minuti erano i vari bracci non solo ma il punto di riporto doveva essere molto particolare perché andando così bassi un paesino o Milano sembra la stessa cosa perché tu vedi solo un po' di case e non sai che cosa sia quindi devono essere i punti di repere assolutamente inequivocaboli e la cosa qual è l'ideale? Una strada o una ferrovia che attraversa un corso d'acqua per esempio o una ferrovia che attraversa la strada l'autostrada cioè sono degli incroci che sono unici lì può essere quello non c'è altro e questo lo facevamo però questa è la tecnica di avvicinamento all'obiettivo poi bisogna arrivare sull'obiettivo allora che cosa succede? perché 30 miglia prima quindi siamo sui 55 chilometri si scendeva a 10 metri manetta a tutta canna a seconda della temperatura dalla stagione di lì la velocità oscillava fra i 450 e i 480 nodi di che tu cammini a 480 nodi a 10 metri dalla terra si è solo questione di addestramento e allenamento non è allora non era assolutamente niente di eccezionale adesso se faccio un giretto col mio aeroplano se non ho il gps mi perdo quindi era da camminare tanto l'altro tipo di addestramento che facevo questo veniva fatto praticamente ogni giorno tutti i giorni dico qualche volta anche due volte al giorno poi ce n'era un altro invece che si faceva ogni tanto non tutti i giorni ed era la simulazione del tutto la missione in Italia per farla lunga dove fai? da Ghedi vai a Santa Maria di Leuca perché più lunga di così non la puoi fare però vai a Santa Maria di Leuca torni indietro questa si chiama l'equivalent mission cioè una missione equivalente è come se io veramente dovessi andare al mio obiettivo che chiaramente stava lontano perché insomma Ghedi Santa Maria di Leuca saranno mille chilometri buoni mille andare mille tornare fanno duemila chiaramente a quel punto si va via tutti i stracarichi di carburante cioè c'ho la tecnica una grossa a sinistra non ho niente perché è per la bomba ma non c'ho la bomba e c'ho gli altri due serbatoi 450 galoni con l'interno 230 gli esterni con questo carico non decollo il motore non ce la fa purtroppo l'Efe era carente di motore specie i primi anni però avevamo una soluzione noi non avevamo il post bruciatore come il 104 però sotto la pancia ci mettevano quattro razzi quattro bottiglie razzi a combustione solida ogni razzo ti dava mille libri di spinta ora quel motore lì del 7 avevamo il 6 aveva 6.000 il 7 avevamo 7.000 libri a 7.000 gliene metti altre 4.000 fai 11.000 libri di spinta è un bel andare solo che durava 14 secondi e quando si spegneva gli dava lì che Dio mio ce la farò stare per aria sì vabbè dopo ci passava un attimo a rasente della pista si sganciava la piastra e si andava via boh quel giorno faccio questa equivalente per andare a Santa Maria di Leuca passo Rimini andando verso Falconara a un certo punto mi chiama Rimini l'avvicinamento a Medellimini mi fa avete carburante? oh non c'è no per andare a Santa Maria che deve tornare indietro non ho problemi qual è il problema? e fa abbiamo uno dei nostri piloti che si è lanciato non sappiamo dove non sappiamo che cosa è successo se può andare a vedere dico ben volentieri dico andatemi a una zona che non vado a interferire con altri elicotteri ad altre vabbè io sto fra Iesi e Fano e quindi è una brutta giornata perché nuova e basse pioviginava fra le nubi e le colline lì non è che ci avessi tanto velocità ridotta perché devi guardarti in giro quindi camminavo sui 250 nodi e dato che ero fra le nubi fra le colline e il mare se devi fare una ricerca o la fai a cerchi concentrici o eccentrici oppure la fai avanti e indietro visto la situazione ho detto faccio avanti e indietro comincio dalla spiaggia e vado verso lì e su e giù e su e giù sono stata una mezz'oretta poi mi richiama a Rimini e mi fa il pilota è stato recuperato è vivo ferito ma vivo non è in pericolo di vita lo stanno portando in ospedale ah benissimo sono contento non sapevo che era il maglio allora e mi fa se volete venire a rifornirvi per tornare a Ghedi si dico faccio tanto di quel carburante che proprio non avevo assolutamente bisogno quindi riparto con la mia missione magari dopo non tornerò a bassa quota tornerò ad alta quota e così sono andato anche in cerca del buon Mario lì apro una piccola parentesi perché io ho guardato tanto i vostri filmati che tantissimi sono dedicati ai lanci e mi sono fatto una cosa perché ti lanci bene sei riuscito a salvarti la pelle da una situazione indubbiamente estremamente pericolosa perché un pilota non è che si lancia volentieri per abbandonare l'aeroplano e poi sei appeso a questo paracadute a calotta dove praticamente non hai la minima possibilità di controllo di direzionabilità e mi sono salvato la pelle e adesso vado a finire sull'alta tensione vado a finire in mezzo alla ferrovia il fiume l'autostrada quello che mi ha colpito è stato la fotografia proprio che hanno preso da terra di Maglio che ha evitato l'alta tensione per pochi metri e quella gli è andata bene poi va a spattacarsi sul tetto di una casa come non basta casca giù e si spattacca pure contro un pallo sì vabbè era tutto rotto ma insomma se l'è cavata perché dopo stavamo insieme all'Italia e vabbè ma quello mi ha colpito allora io sto ancora volando c'è un bellissimo Longiz macchina nella suo campo quindi degli aeroplani così di aviazione generale di basso livello ma di alte prestazioni corre corre tanto corre anche quando deve atterrare per cui se ti pianta motore con quell'aereo non se ne parla proprio di fare un fuoricampo e infatti io vado in giro col paracadute ma un mio amico che ha sempre vola con gli alianti l'aliante il paracadute è sempre stato obbligatorio mi ha regalato un suo sì ma è a calotta dico non mi piace io sono andato dai ragazzi vicino a me che fanno i lanci ogni giorno tutti i giorni e gli ho spiegato il problema ho detto vorrei uno delle vostre vele e infatti mi hanno dato una vela poi anche particolare quella che loro fanno per il mount jumping quando si buttano giù dai ponti dai grattacieli da queste cose che hai bisogno di un paracadute chiamiamolo così che si deve aprire con estrema rapidità e quello è altamente manovrabile perché è una vela cioè è un microbo di aliante che uno scende mi hanno detto poi quando arrivi circa 5 metri chiudi è come mettere giù flap a 50 gradi aerofreni a tutta canna praticamente ti fermi non è che ti spattacchi quando vieni giù che comunque sia anche la calotta vieni giù 5 metri al secondo è come saltare da 2 metri 2 metri e mezzo uno che non è allenato per bene che mette rompi la caviglia insomma almeno quindi decisamente molto meglio questa tecnica qua va bene chiudiamo l'aeronautica l'ho lasciata con un dolore estremo perché dopo ho fatto tante altre cose anche bene anche molto interessanti ma l'unica cosa in vita mia che ho fatto veramente con passione e con amore è stato il pilota militare punto l'unica cosa Grazie.